Buongiorno a tutti ma come state ragazzuoli spero tutto bene allora scusate la lunga lunghissima assenza ma io sono tornata da poco da un lungo e meraviglioso viaggio per andare a trovare tutta la mia famiglia tra inghilterra genova eccetera sono passati tantissimi giorni e io ovviamente non sono riuscita a pubblicare niente di questo mi scuso tantissimo abbiate pietà perdonatemi ad ogni modo in questo periodo ho tantissime cose da fare tantissimi lavori da organizzare preparare fare eccetera eccetera dunque vorrei prima di tutto completare questo gioco che da quanto ho capito dovrebbe durare ancora poco quindi ancora qualche episodio e l'abbiamo finito però vorrei sapere sinceramente dove vuole andare a parare il tutto e soprattutto il 14 dicembre in teoria esce la nuova mappa di Ark Lost Island e io non vedo l'ora di provarla quindi sicuramente finiamo questo gioco sicuramente ci saranno degli episodi su Ark Lost Island ma al momento non ho modo purtroppo di garantire una costanza nella pubblicazione dei video proprio perché ci sono un po' di novità nella mia vita tanti cambiamenti tante cose nuove e quindi io al momento ho un pochino da fare e purtroppo non riesco a dedicare tanto tempo al gioco quindi per ora vi lascio a questo episodio poi ci rivedremo per il finale di questo gioco e gli episodi su Ark Lost Island prima di fine anno ovviamente dopodiché mi sembrava corretto informarvi che se le cose vanno come devono andare quindi se questi nuovi lavori che ho in corso vanno nel verso giusto purtroppo per un periodo di tempo pubblicherò in maniera un pochino sporadica quindi non in maniera costante ma non appena avrò l'opportunità di giocare montare il video e pubblicarlo ovviamente lo farò quindi niente questa era una piccola informazione di servizio adesso vi lascio all'episodio e noi ci vediamo ci sentiamo il prima possibile vi ricordo che se volete rimanere in contatto comunque ci sono tutti i social trovate ovviamente il link in descrizione sul canale dappertutto e soprattutto c'è la chat su telegram che anche lì purtroppo sono stata un pochino assente ultimamente ma adesso torneremo più in forma che mai va bene questo è tutto un bacione enorme enorme chiao e tadaan siamo tornati magicamente a casa questa è casa c'è una candela se è casa perché abbiamo candele accese non le luci non mi sembra casa se è casa ridotta male ah 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 permesso salve buongiorno disturbo prima di farmi venire un infarto potreste avvisare va bene ci muoviamo con cautela ok ci sono degli alberi in questa casa sì ok io voglio capire chi è l'architetto che ha progettato tutto questo va bene oddio cos'è no ok decisamente non siamo tornati a casa nostra ma che posto è dietro le radici queste queste radici quelle cose che volteggiano bianco i cubi là ok cioè il lampadario perde foglie oddio non c'è una cosa che abbia un senso qui molto bene vai questo è un cuscino cosa ah forse lo devo ma devo togliere il telo ah sì un puzzle oh che bellino mi piacciono i puzzle devo trovare i pezzi del puzzle quindi oh lì c'è un ritratto mi sa che c'è una sottotrama allora qui da svelare molto bene allora abbiamo trovato indizi del passaggio di bambini aspetta che vedo 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 io vedo e prevedo l'ha trovato un pezzo dicevo abbiamo trovato ah guarda lo posso sollevare indizi della presenza secondo me di altri bambini quindi a breve incontreremo una bambina fantasma no vi prego non mi piacciono i bambini indemoniati a me c'è proprio il terrore accetto anche lo splatter ma i bambini indemoniati proprio no non li tollero dai tieni metti e dove andrà mai sì come siamo stati bravi oh guarda si liberano passaggi gattona bimbo gattona diamoci una mossa ciao oh vedo Ghirigori bene che c'era nella torta mamma droga la mamma ci ha drogato nella speranza di farci addormentare prima io presumo invece noi abbiamo le allucinazioni e vaghiamo nel seminterrato di casa che improvvisamente è diventato una trappola mortale bene e allora io presumo che sia qui l'altro pezzo del puzzle perché altrimenti non avrebbe avuto senso aprire questa cosa questo passaggio oh no ma è un finto quadro perché oh c'è un passaggio molto bello ok vai passa qui c'è una sedia ora presumo si chiuderà le nostre spalle infatti ma se io risalgo tu ti riapri sì perfetto ok a posto giusto essere sicura di avere una via di fuga all'occorrenza ma allora a parte questa oscurità e inquietantezza che regna sovra no c'era un buco siamo morti sì no non ci posso credere ho fatto affogare il bambino no ma dai cioè ma avrò incubi per tutta la vita ma che trauma è va bene ok non pensavo che il bambino potesse affogare ok allora cerchiamo di andare un po' più di stare un po' più attenti e ah ok di qua si passa molto bene e dicevo se non fosse per quest'aria spettrale in realtà è anche tutto molto carino allora vediamo di trovare l'ultimo pezzo del puzzle mi fa aprire il cassetto posso salire posso guardare cosa c'è dentro no no molto bene cioè abbiamo una palude sotto casa ecco spiegata la muffa ho sentito qualcosa che cadeva in acqua ho sentito qualcosa che cadeva qualcosa ci sta seguendo ah ma non è che il pupazzo no non è il pupazzo scusa Teddy se ce l'abbiamo qua si ok ok posso posso e cos'è ah c'è un cassetto nell'albero benissimo se se ah si tira su e giù questa cosa ok perfetto aspetta aspetta che la tiriamo ancora un po' più su ok fai ancora un pochino ok perfetto e e siamo dall'altra parte se troverò qui quello che cerco aia sentono movimenti in acqua ci sono robe ci sono bolle no 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 è inquietante dai fatemi andare via da qui ok ok andiamo devo passare di qua che è tutto chiuso tutto bloccato allora saliamo chi molto bene oh guarda quanti libri finti qui c'è un disegnino che cos'è è un bambino accovacciato non capisco vabbè ora presumo che avremo spiegazioni ah forse aspetta voleva indicarci che dovevamo acquattarci qui vabbè grazie ci arrivavo da sola io sento passi c'è qualcuno che ci sta seguendo mi sento passi alle spalle ecco la solita ambulanza c'è un'altra rapina molto bene eh sì ok oh guarda un fuoco si è spento perché sta lagando tutto qua allora qua c'è un altro disegno cosa vuol dire questo che cos'è cosa mi rappresenta io di qua non posso passare no devo andare qua giù ok però come ci arrivo lì nope allora vediamo un po' deve esserci qualcosa da prendere ah 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 probabilmente è questa roba qui senza che ci cadiamo di sotto anche noi bimbo grazie ok molto bene ok piano piano senza fretta ok 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 se se ricordo che sto bambino ha solamente due anni eh però intraprendente il piccoletto manco parla però guarda un po' che ci combina allora qui presumo di dover fare sempre sta cosa ok e ora di qua e ora di qua ah ah mi è comparsa roba sulla testa sento suoni bruttissimi chi è che mi sta seguendo disegnino ah laggiù 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 vedo vedo cose luminose quindi devo aprire questa ok 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 aprila un po' di più ok ciao macchinina broom 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 allora di qua niente dobbiamo andare per di qua eccolo qui preso guarda che bellino voci sempre voci guarda che bellino che peccato lasciarlo qui questo bruchetto però altro disegno di uno scarafaggio sotto sopra pancia all'aria non lo so mamma mia sono tutti da interpretare sti disegnini eh oh guarda funghetti magici quelli che probabilmente la mamma ci ha messo nella torta ecco dove li ha presi semo devo tornare indietro da qui decisamente non passo però mi hanno fatto mi ha fatto scendere da questa parte io presumo di dover passare da qui per tornare indietro ah guarda c'è roba qui ah ok 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 ho capito ho capito ho capito devo fare questa cosina qui ok e due e l'ultimo non cadiamoci di sotto grazie ok ce l'abbiamo fatta e giù nel tubo yeee radici che brutte cosa no 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 sta arrivando qualcosa sta arrivando qualcosa sta arrivando qualcosa sta arrivando qualcosa no devo salire lì sopra presumo qui c'è un libro ci posso arrivare per aprirlo no oh sta succedendo qualcosa là dentro guarda tutte quelle lucine ok ma io secondo me se vado ma non devo salire lì devo salire lì ma se vado in acqua secondo me ci muoio proviamo ad andare per di qua no non penso di dover prendere quella barca sono quasi convinta che no che io non debba farlo me ne voglio convincere no aspetta scusa non cadiamoci di sotto ma quelli sono pupazzini impiccati ma stiamo scherzando ma è la cosa più brutta del mondo ma no ma che cosa terribile hanno impiccato i ci hanno appena tirato una secchiata d'acqua ah versi bruttissimi versi bruttissimi no decisamente i pupazzini impiccati sono abbastanza inquietanti ok possiamo tornare indietro grazie oh non che qua mi senta più tranquilla o mi senta meglio in qualche modo però almeno abbiamo un po' più punti di riferimento bene ah quelli sono tutti i ricordi che volano benissimo benissimo perché ha perfettamente senso che i ricordi volino dentro dei cubi semitrasparenti disse l'orsetto indemoniato che mi aveva costretto a chiudermi in un armadio al buio bene andiamo dall'altro lato quali meraviglie ci aspetteranno da questa parte oh 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 non mi piace questa cosa non mi piace questa cosa cioè lì c'è una signorina che si abbeverà il pozzo e come noi ci avviciniamo diventa un demone posseduto in versione super saiyan bene anche qua sì abbiamo lo specchio magico il quadro magico perfetto salve buongiorno se se ok proviamo ad andare per di qua tutto bene tutto bene e cosa mai dovremmo preoccuparci ah eh sì presumo questa fosse una camera da letto vediamo un po' cosa abbiamo qui allora mmm cassetti molto bene dovrò rampicarmi eh ma non c'è niente in sti cassetti di qua no di qua no posso fare qualcosa no ma è un barbatrucco ma non avete fatto salire per niente non serve a nulla salire qui ah disegni una tartaruga che cammina sopra una non lo so non lo so mostro inquietante quello è chiaro ok questa parte del disegno chiarissima chiarissima ok questo ci cadrà in testa quindi vediamo di passare sotto il letto grazie molto bene apri qui sali lì fa così ok no 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 queste non sono scarpe questa è una persona che è scesa che che no 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 ciao ciao arrivederci ci vediamo in un'altra vita molto bene salve è stato un piacere è stato un piacere conoscervi no ma qua sta gocciolando cioè qua tra un po' sallaga tutto crolla tutto io non ci voglio passare di là ci sono dei piedi ho paura dei piedi presumo che noi non abbiamo scelto vedrai che tanto ora usciamo e si scopre che sono solo un paio di stivali che magicamente si sono delicatamente appoggiati sì infatti perché mi dovete prendere in giro in questo modo? maledetti maledetti allora di qua c'è niente che ci interessi no qua c'è il letto dove non possiamo salire di qua aspetta 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 che non sono provata a salire dall'altra parte no di qua non possiamo salire quindi a posto ce ne andiamo giusto? qui c'è un disegno di un mostro inquietantissimo ottimo ottimo eh porta io devo aprirti se sì devo aprirti ma ovviamente non ci arrivo quindi tutututu salve permesso scusa Teddy fai un attimo il tuo lavoro e fammi un po' di luce che non si veda una cipa lipa allora ah c'è il nulla di là il vuoto bene molto bene sento voci addio cos'è quella cosa cos'è quella cosa cos'è quella cosa cos'è quella cosa non mi voglio facciare di nuovo mi fate spostare questo che io dovrei salire qua presumo c'è ancora no se n'è andata molto bene meno male ah era vicino al pozzo quello è il pozzo è il pozzo del quadro ok dovremmo andare lì io io immagino non lo so da qua me la fai aprire la porta no perché no ah sì forse sì forse sì 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 siamo tornati nella prima stanza si vede una cipa lipa di niente teddy non serve a niente non mi dà neanche informazioni utili illumini poco eh sì lì c'è acqua se vado lì sotto c'è fuoco mi sa eh ma non penso di avere altra scelta eh sì ah no ok non c'è acqua molto bene ah ragnatela in faccia che gioia ah sento passi sento passi sento passi no 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 c'è il pozzo c'è il pozzo c'è il mostro c'è il mostro no 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 mostro io non voglio disturbarla glielo giuro allora probabilmente l'ultimo pezzo è qua dentro Eh, sì Vai, gira la manovella Lala che sta arrivando l'ultimo pezzo Dai, bimbo, un po' di impegno però Queste braccine minuscole E cicciotte È abbastanza su, sì Dovremmo arrivarci, presumo Spero, senza finire di sotto Grazie, bimbo Che è abbastanza inquietante questa cosa Ho trovato altre cose, ho trovato altre cose No, no, se ora esce il mostro dal pozzo io muoio A me viene un infarto Ah, ecco cosa abbiamo trovato Forse la chiave per aprire questo, ok Molto bene Sali, allora, così A così, a così Molto benissimo Via, il più in fretta possibile, grazie C'era una pazza con i capelli per aria Sarà stata mamma Tutto bene, tutto bene Tutto bene, noi ci nascondiamo qua dentro Ok E nulla di male potrà accaderci, giusto? Giusto, sì Via, veloce, veloce, veloce Più veloce, bimbo Più veloce, bimbo E no Qui è un piccolo cieco E quindi io devo andare Aspetta, lì c'è un disegno Quindi probabilmente devo andare qui Ok No, non me lo fai prendere il disegno? Ah, sì E ah, qui però non c'è niente da fare Dove devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Mi fate allontanare da questo posto Ho dimenticato da Dio? Sento cose che cadono in acqua E sono inquietantissime Ma perché poi ci sono mobili abbandonati in giro così? Cioè, ma Perché abbiamo inquinato questa meravigliosa Foresta maledetta? Ok Nick Sì, questa tavola immagino Buongiorno, la possiamo spostare Sì, ok Posso Mi spostate le tavole, grazie Ok Ah, c'è la chiave lì Devo passare là sopra Ok Aspetta, questo non me lo fa spostare? No, io penso di doverlo avvicinare lì Questo, scusami Aspetta, c'è un altro disegno Qua ci sono macchie di roba strana Cos'è? Ah, boccettine di veleno Molto bene Sappiamo che fine ha fatto mamma Questa è una persona senza testa? E così siamo noi? Oddio Va bene Prendiamo il disegnino Che non si capisce niente Ovvio Allora, io devo prendere la chiave che è lì Quindi Vieni a me Ok Chiave Perfetto C'è un'ombra C'è un'ombra Stanno diventando sempre più frequenti queste cose È là fuori, è là fuori, è là fuori È là fuori Via, 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 via Bimbo, bimbo Muoviti, muoviti Muoviti, bimbo E non ti voglio tornare là fuori C'è il mostriciatolo Che ansia Ah, no, 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 no Ah, Dio L'infarto Fuggi, ti prego, ti prego No, ci ha preso, ci ha preso, ci ha preso, ci ha preso Ok 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 è un mostro molto brutto e molto cattivo Dovremmo farci molta più attenzione Va bene la prossima volta Fuggiamo un po' più rapidamente magari Grazie